La sovraesposizione mediatica può influenzare la verità processuale di un evento giudiziario. Di questo si è discusso in l'incontro organizzato dall'Ordine regionale dei giornalisti dell'Emilia Romagna e dalla Fondazione Forense Bolognese. Il processo mediatico è affidato al giudice che è l'opinione pubblica. Precede quella che è la verità giudiziale che molto spesso arriva anni dopo quando magari non interessa più nessuno. Questo dovrebbe responsabilizzare ancora di più il lavoro del giornalista. Basterebbe che ciascuno di noi si comportasse nell'affrontare le notizie che riguardano gli altri facendosi prima una domanda. A me farebbe piacere di essere descritto così. Il senso della misura non toglie nulla al dovere dell'informazione. Per evitare l'inquinamento mediatico è necessario che i media ritrovino la giusta misura ma anche che le parti di un processo non pecchino di esibizionismo. Non metto in dubbio che ci siano delle situazioni in cui l'avvocato possa anche avere necessità di proclamare davanti all'opinione pubblica certe realtà. Però io questo lo vedo più con delle dichiarazioni, con dei comunicati stampa e non con la partecipazione a dibattiti dove si fa proprio un contraddittorio e quindi lì diventa difficile non coinvolgere il proprio cliente in una situazione mediatica che sicuramente a mio giudizio non porta a lui nessun vantaggio. Mi domando, i giornalisti si debbono prestare a tutto questo? Io penso di no.